A preso il via il FELP a Policoro, il festival delle letterature organizzato dal presidio del libro Magna Grecia, un avvio con il botto grazie alla presenza di Mauro Valentini, giornalista d'inchiesta che ha presentato i suoi due ultimi libri dedicati a due episodi di cronaca nera, Marta Russo e Mirella Gregori. Abbiamo incontrato l'autore che ci ha parlato di come ha voluto portare alla luce la storia di Mirella Gregori raccontando la vita della giovane scomparsa a Roma. Ha portato a tantissimi punti d'ombra, coni d'ombra, che non sono mai stati chiariti. Io ne ho contati addirittura 18 e in questi punti non chiariti secondo me andava iniziato a ragionare non tanto sul caso Marta Russo, ormai il caso chiuso, quanto sul dubbio e sulla capacità di creare un dubbio rispetto a delle verità che sono più mediatiche che processuali. L'altra storia è quella di Mirella Gregori che è una scomparsa taciuta, una scomparsa nascosta e tenuta in una sorta di limbo per 35 anni. Una scomparsa che avviene il 7 maggio dell'83, una ragazza di 15 anni che scompare nel centro di Roma e che poi viene inserita nei grandi mare magnum della storia che riguarda Emanuela Orlandi, ma viene inserita quasi a corollario. Di Mirella veramente non c'è stata mai una ricerca approfondita, un'indagine. Abbiamo scoperto in maniera drammatica che dei tantissimi faldoni che ci sono riguardo al caso Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, quello che riguarda Mirella è veramente nullo. E allora noi abbiamo pensato, io e la famiglia, io e Antonietta, la sorella che è rimasta a combattere per la ricerca della verità, abbiamo pensato di rileggere questa storia, di riraccontarla e soprattutto, e questo sono convinto di esserci riuscito, di riportare in vita Mirella, in sorta di ritorno alla vita letterario. Abbiamo raccontato quello che era Mirella prima di scomparire, perché il destino di chi scompare spesso è legato dal momento della scomparsa in poi, come se non fossero mai esistiti. Bene, noi abbiamo la pretesa e la voglia e anche, se permettete, la gioia di raccontare questa ragazzina di 15 anni, una ragazzina semplice, con tanti desideri, che amava ballare e che voleva aiutare in qualche modo la famiglia, perché si sentiva già grande. Ecco, la tenerezza dell'incontro mio dopo 35 anni con Mirella ha partorito questo libro.